Speriamo che sia la volta buona e che finalmente, dopo tanti sacrifici, possiamo ripartire anche se lentamente con i nostri tavolini all'aperto per la nostra clientela. Il governo decide di aprire l'Italia dal 26 aprile. Si parte con attività e locali all'aperto. Sarà però una ripartenza graduale. I primi a ripartire il 26 aprile saranno bar e ristoranti che hanno tavolini all'aperto. Siamo arrivati all'estremo delle nostre forze. L'unica speranza è poter ripartire, anche se lentamente, ma poter ripartire almeno all'aperto. Voi siete pronti per questa ripartenza all'aperto? Siamo prontissimi, non vediamo il momento. Siamo tutti quanti, così dice, con morale a 3.000. Quindi siamo molto contenti e speriamo veramente che sia la volta buona. Per tutti quei locali che non hanno spazio all'aperto rimarrà la sola possibilità di asporto e domicilio. Le spese sono tante, il lavoro è quello che è, però aspettiamo fiduciosi. Noi continueremo a lavorare così con l'asporto e purtroppo non avendo lo spazio fuori, esterno, dobbiamo aspettare ancora che ci daranno la possibilità di lavorare anche noi, rispettando tutte le normative.